La scelta di Berlino non è casuale. L'ingombrante Yanis Varoufakis ha lanciato un nuovo movimento politico europeo, Diem, Democracy in Europe Movement 2025, per riportare la democrazia nel processo politico europeo. E non a caso Varoufakis è scelto proprio la Germania, con cui era entrato in netto contrasto quando era ministro delle finanze, per fare il suo ingresso in campo. L'unica alternativa è di provare qualcosa che non abbiamo mai provato prima, dice un movimento politico che parta in contemporanea diverse parti d'Europa, oltre i confini, in modo indipendente alle affiliazioni politiche, con un solo obiettivo principale, portare gli europei intorno a un tavolo metaforico, per discutere su tavoli digitali quali sono i comuni problemi degli europei e quali sono le comuni soluzioni. Noto per aver accusato i creditori europei di star affocando fiscalmente la Grecia, Varoufakis era stato costretto a dimettersi dal suo stesso governo, perché è considerato un ostacolo per ottenere un accordo nel nuovo piano di salvataggio della Grecia.